Oggi siamo qui per presentarvi l'argilla in versione tradizionale e l'innovazione della città. Io lo so, adesso te lo mettiamo. Abbiamo applicato Dren Argill sull'anteriore sinistro e ci abbiamo impiegato 3 minuti e 45 secondi. Abbiamo applicato Mac Park sull'anteriore destro e ci abbiamo impiegato solo 1 minuto e 49 secondi. Tutti i due prodotti sono validi e funzionano nello stesso, identico modo. A seconda della vostra esigenza potete scegliere quale dei due vi è più comodo. Mac Park è davvero la soluzione ideale soprattutto per quando siete in concorso.